Resta in carcere a Genova la dominicana di 27 anni, Francisca Binisio Medina, accusata dell'omicidio di Carmine De Luca, il settantenne napoletano massacrato con dieci coltellate e trovato cadavere nell'appartamento del primo piano della sua abitazione a Piano Grande di Torricella Sicura lo scorso 28 maggio. Secondo i medici del posto, la dominicana ricoverata nell'ospedale carcerario, la donna sottoposta recentemente ad operazione non potrebbe muoversi, quindi secondo le disposizioni dello stesso magistrato di Genova per ora la dominicana non potrà essere trasferita a Teramo per essere sottoposta all'interrogatorio di garanzia davanti al PM Davide Rosati. Si dovrà attendere dunque ancora qualche giorno. Gli inquirenti a Teramo sperano che in settimana la donna possa essere portata alla casa circondagliare di Castrogno. Nel frattempo ieri pomeriggio è rientrato da Genova a Teramo accompagnato dai colleghi l'appuntato del nucleo operativo dei garabinieri di Teramo, Sabino Patruno, che lo scorso 21 giugno durante l'operazione per bloccare e sottoporre a fermo la dominicana, era rimasto ferito alla schiena di un braccio dopo il tentativo di fuga della stessa. L'appuntato era ricoverato all'ospedale San Martino di Genova dove era stato sottoposto ad un'operazione alla schiena, presentava infatti una lesione alla vertebra lombare. Operazione che comunque era andata a buon fine, di fatti le condizioni del militare dell'arma sarebbero ottime.